Ciao a tutti ragazzi, sono Francia50 e oggi volevo iniziare il secondo video delle sponsorizzazioni. Allora, come prima persona volevo fare NincraTV che non me l'ha neanche chiesto di sponsorizzarlo, però lo sponsorizzo perché mi lascia sempre like ed è molto simpatico. Allora, anche lui fa le sponsorizzazioni, parte 2, ha fatto anche lui, fa 5 cose che non sai su Clash Royale, già mi finite, ok, poi fa Minecraft che è molto figo, Clash Royale, vedete Clash Royale, e video di Minecraft che inizierò a fare anch'io che mi piace un tanto, Minecraft e anche un pochino di agario ha fatto, penso. Bene, allora, come secondo canale volevo fare Harvey Blaster, che anche lui mi segue da abbastanza tempo. Allora, lui gioca a Clash Royale, ha fatto multigiocatore, penso che si faccia tramite il clan. Clash Royale, Clash Royale, Far Cry, ha fatto, altro Far Cry, e Clash Royale, Clash Royale, è già in Arena 5 ed è molto forte, e giochi vari, giochi molto divertenti. Poi, come terzo canale, vado un po' di fretta dato che ce ne ho abbastanza, come terzo canale volevo sponsorizzare Muflona, adesso che c'è, Muflona 12, che fa dei video stupidi a chi piacciono, ma divertenti, cioè, tipo, Hitler è tornato, che con suo fratello l'ha fatto che ha fatto abbastanza ridere, ho anche il finto horror, ha fatto ridere, ha sei iscritti, aiutiamo la poveretta da arrivare un pochino di più. Iscrivetevi al suo canale, ci tengo abbastanza. E, beh, allora, lei fa, vabbè, qua piangeva, fa dei video abbastanza stupidi, ma molto divertenti, cioè, a me, nel primo video, mi ha fatto troppo ridere, tipo questo qua, cose stupide, nuove idee. Mi fa troppo ridere, veramente. Ok, ho troppo ridere, veramente. Adesso passiamo subito, se no mi scoppiano le casse, anche se non si è sentito tanto. Ok, terzo canale, Latifa Ioana. Madonna, adesso che la cerco, vediamo dov'è. L'avrò passata sicuramente, diciamo, no, eccola qua. Eccola, Latifa Ioana. Viene a scuola con me, ed è simpatica, è una ragazza abbastanza simpatica. Fa dei video dove, cioè, li sa anche editare abbastanza. Non ha tanti iscritti, ma speriamo di farla aumentare. Ha creato pure alcune copertine, brava, veramente. Poi ha fatto un piccolo filmino, The Grudge. Poi, lei sclera sempre, Ioana sclera con la prigione. Cose preziosi per Greta Menchi, che penso che non abbia senso. Ah, poi lei canta. Non posso giudicare come canta, però... Andate a vedervi un suo video che... Che merita. Veramente, tipo, non lo so, guardatevi il secondo, che mi è piaciuto tanto. È arrivata pure a 200... 237... 235 visualizzazioni, ragazzi. Sono tantissime. Come minchia ha fatto, adesso voglio vedere anch'io, perché... I non mi piaci, ce ne ha 6. Vediamo un po' di commenti. Grazie, brava, brava, ok. Quindi, lei dovrebbe essere brava. Non lo non ho neanche visto, sto video qua. 230 visualizzazioni sono veramente tanti. Quindi, osserviamo un pochino. Non lo non ho neanche visto, sto video qua. Ok, allora, dopo questa cosa qua, io direi di passare al prossimo canale. Ehm, va bene. No, infatti. Ok. Ehm, terzo canale. No, scusate. Quanti cazzo ne ho fatti? Quattro, questo è il quinto canale, penso. Ehm, Naldigno, che mi segue da un po'. Quindi, eccolo qua, Naldigno003. Lui sì che fa ridere è un gran figo. Madonna, fa troppo ridere. Ehm, Bombich, finalmente a me non piace Bombich, però fa lo stesso. Ho fatto dei piccoli episodi di... Ehm... Angry Bird. Piccoli vlog. Angry Bird ancora. No, scusate, ho sbagliato. Speciale. 50 iscritti. Eating food for all bread. Non l'ho capito. Ehm, Clash of Clans. Che mi piace, il suo Clash of Clans. Poi ho fatto abbastanza successo con tipi strani in. Tipi strani in, sempre. Crossy Road, Clash Royale e queste cose qui. Non so più quanti iscritti ha, perché una volta, una volta c'era scritto, adesso li ha tolto. Ehm... Adesso, come ultimo canale, volevo di nuovo risponsorizzare, cioè, il Leone, che, madonna, è diventato una roba pazzesca. Dall'altra volta che avevo fatto la sponsorizzazione con lui, aveva tipo 150 iscritti. Adesso è arrivato tipo a 400 iscritti e guardate quante visualizzazioni fa. No, stai fermo. Fa, tipo, queste visualizzazioni qui, 404... Scusate, porca, 404, ma il video che merita di più per lui è stato questo. Che vi ho fatto vedere l'altra volta? Scherzami, mi ci sono Aerobrand. Ha avuto 10.000 visualizzazioni, 896. Sono troppe. Troppe. Vediamo subito il mi piace. 881 mi piace e 88 non mi piace. Qua richiedeva 5 like, penso che li abbia già superati alla grande. Ehm... Bella a tutti, ragazzi. Mi fa troppo ridere come youtuber, spero che sponsorizzi anche me un giorno. Ehm... Questo è tutto, un saluto dal vostro Francia50 e lasciate un bel like per le prossime sponsorizzazioni. Se volete essere sponsorizzati di nuovo o sponsorizzati proprio per la prima volta, lasciate sempre un commento al mio video con scritto a fianco. Se puoi sponsorizzami, ma basta una volta perché io lo capisco e non lo scrivo. Poi commentate sempre, scrivete sempre un mi piace. Ovviamente iscrivetevi al mio canale e fate il più possibile. Detto questo, un saluto dal vostro Francia50 e ci ritorniamo, ci rivediamo. Madonna, oggi non so parlare. Ci rivediamo nel prossimo video. No! 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 No!